Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema all'avvio di Electronic Arts. Ovviamente se andate ad avviare il programma e poi cominci a caricare così la freccia sul desktop vuol dire che il programma si è avviato ed è anche aperto in gestione attività. Quindi in questo caso se tu ci hai cliccato sopra e si è avviato vai su gestione attività. Se sta qua dentro tu ci clicchi sopra e fai termina attività. Oppure per altri problemi andiamo su esegui e andiamo a scrivere percento local appdata percento. Scendiamo fino a giù, andiamo in local, scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella Electronic Arts e va cancellata. E' a desktop E' a crash report E' a connect microsoft E' a launch helper Una volta fatto svuotiamo anche il cestino Andiamo su Electronic Arts Proprietà Compatibilità Distabilita ottimizzazione schermo intero Esegui questo programma come amministratore Modifica impostazione per tutti gli utenti Lo stesso vale anche per questo Modifica impostazione dpi elevati Dpi programma Apro questo programma Esegui l'overwrite del comportamento Eseguiamo il programma come amministratore E vediamo se si avvia Il programma si è avviato senza problemi Se hai altri problemi mi raccomando scrivi nei commenti E dimmi che tipo di errori riscontri Tipo quando apri Electronic Arts e ti esce una schedina con una X e un errore accanto Fammelo sapere Cercherò di aiutarti con un altro tutorial Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida su Electronic Arts Grazie a tutti per questa visione Iscriviti e lasciate un like E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao